Questo è il secondo Molière che io metto in scena, però il primo fu diversi anni fa ed era un spettacolo più adatto a quel periodo, con una satira molto più scontata, anche se vogliamo, perché così andava in quel tempo. Questa è una ricerca non tanto filologica, critica, ma mentre stava soprattutto la figura del capo comico di Molière e dei suoi rapporti con il potere e con la sua compagnia. Era questo che mi ha sempre affascinato, in teatro rubare è cosa buona, copiare da stupiti. Molière rubava dai classici, dai comedianti dell'arte, dai novelieri italiani e io rirubo quello che lui ha già rubato ma che altri non hanno rubato a loro volta. Sono quegli autori come Shakespeare, come Brecht e altri ancora che sono universali. Noi passiamo dal 600 a domani mattina in un secondo.